Niente da fare Niente da fare Ultima azione loro Finisce questa partita 0-0 Ma qua hanno avuto Dio in porta Hanno avuto Dio in porta Questa è la classifica L'Europa League 5 punti 5 punti Perché adesso abbiamo la partita Contro Brighton Il ritorno Ritorniamo qui con questa partita Che è stata molto difficile All'andata Vediamo se riusciamo ad attaccare A fare qualcosa No Attenzione Brighton Che in qualche modo Riesce ad attaccare Attenzione 1-0 Partenza aggressiva E il gol È possibile Porta Anna la Madonna Non è possibile Non è possibile cazzo Io mi faccio vedere Vaffanculo va Vaffanculo va Vediamo se qualcuno Me la passa Addirittura Non riescono nemmeno A tenere palla Attenzione Attenzione Incredibile Vediamo se riesco a saltarlo Ci posso provare Fare il tiro Porca puttana Sul tiro Che cazzo fai Mi prendi la palla sempre Porca troppo Non è possibile cazzo Come faccio a prendere una palla così Come faccio Ah non lo so io Vediamo se riesco a saltarlo Ma sta minchia Riesco a saltare qua Porca puttana Non è possibile Che cazzo hanno questi qua Cosa hanno oggi questi qua È bello che siamo anche in casa nostra Madonna il portiere Madonna No no È una cosa proprio assurda Una cosa assurda 1-0 per loro Finisce questo primo tempo Madonna Con questi passaggi del cazzo Madonna Avete rotto la minchia Avete rotto la minchia E una stagione intera Con questa squadra Non ce la faccio Dai cazzo Non è possibile Che schifo Non è possibile Che schifo Forse non hanno capito Che stiamo perdendo Vediamo se riesco a saltarlo Attenzione Occasionissima Occasionissima 1-1 Vaffanculo Ci volevo io Vediamo se possiamo vincerla adesso Vediamo se riesco a fare qualcosa Vediamo se riesco a saltarne Qualcuno Vediamo È impossibile Così L'ho visto Vediamo che cosa fa Vediamo Se la mette in me Madonna Madonna Ecco perché io non voglio passare mai la palla Ecco Attenzione Il Brighton Non riusciamo più a tenere palla Porca puttana Non riusciamo a tenere palla Ma io devo fare tutto da solo Grazie al cazzo Che non ci riesco a fare le cose Poi Vediamo se riusciamo A saltarne qualcuno E andare in attacco Vediamo Io te ho visto Te ho visto Adesso avanza Devi fare tutto tu Devi fare tutto tu Tira per favore Ma che cazzo fai Che cazzo fai Tiri centrale Ma sei ringoglionito Sei In nomine patris et fili Et spiritus santi Sei ringoglionito proprio Cazzo Porca puttana Non è possibile Non è possibile Non è possibile Vediamo se riesco a fare qualcosa io Anche se da questa posizione Non riesco a fare un cazzo però Non riesco Ci posso provare La deviazione Calcio d'angolo Ci posso provare No Porca troia Porca troia Me lo son mangiato Cazzo Ma che passaggio del cazzo Porca puttana Vediamo Li salto tutti Li salto tutti Oh madonna Vai che ti ho passato la palla Incredibilmente Madonna 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 Gesù Cristo Non è possibile Non è possibile Questa è sfortuna È sfortuna Finisce così La partita Madonna Madonna Se segnava Mi incazzavo Spaccava tutto Spaccavo qualcosa Non parlo più Perché i nervi ce li ho Lo sai come Ma io che cazzo Ne so Scuola Ce li ho in un modo incredibile Non riesco manco a parlare Più incredibile Incredibile Non giocate mai a questo gioco Perché è mortale Soprattutto in questa modalità Mi fa saltare l'anima Porca puttana Non ce la faccio più Questa è la classifica Attualmente Delle revisi Secondo posto Secondo posto Con 29 punti A meno 2 Del Feyenoord Tutto da rifare Quindi Raga Prossima partita In campionato Contro Sparta Lo Sparta In classifica È una squadra Da penultima acquisizione Perciò Non dovrebbero esserci Grossi problemi A giocarla Eccoci qua Contro Sparta Rotterdam Ok Posso subito attaccare Posso subito provare a tirare Deviato Però buona per noi C'è La possibilità Però sono caduto per terra Attenzione C'è il tiro Portiere la para Vediamo se riesco a saltarlo Con l'aiuto del compagno Ci riesco E vabbè Passaggio di minchia Vai Vai Io sono qua al centro Vediamo chi Poteva vedermi Però vabbè Sì vabbè Ma quanto cazzo Vabbè Lasciamo stare Io sono al centro Vediamo Se riesco a saltarli Tutti E tre Invece no La difesa Dai difesa Meno male Io non vedo niente Da qua sopra Da qua sopra Però vabbè Attenzione Lo salto Attenzione Provo Palo Può provarci Tiro No No Madonna Ci siamo andati vicinissimo Ci siamo andati Recuperiamo sta palla Andiamo ad attaccare Dai Riprendiamoci St'occasione È mia È mia La tengo Vediamo se riesco a saltarli Vediamo se riesco A provarci addirittura Il portiere c'è Ci proviamo Gol Ci siamo ripresi L'azione Mamma mia Dopo quel pallo Non ci speravo Quasi più Rieccoci Ora sì che siamo Una squadra Ora sì che siamo Una squadra Vai tu Vai Non ritornare indietro Guardami che ci sono Guardami che ci sono Guardami che ci sono Ho segnato un gol bellissimo Bravi Bravi Questa sì che è la squadra Ora però tocca a me segnare Ora tocca a me segnare Ce la devo fare Dai Io ci sono qua Io ci sono al centro Ci sono al centro Vabbè va Ci posso provare Me la para ancora Vediamo se ci arrivo di testa Invece no però La palla è ancora lì Attenzione perché siamo ancora qua in attacco Ci posso provare Deviata Finisce il primo tempo Comincia il secondo tempo Vediamo adesso se riesco a fare almeno un gol Ripassa Vediamo se lo salto L'avevo saltata Però ancora la palla è nostra Attenzione perché ho un'altra occasione Ci provo Me la para Me la para ancora Incredibile Vediamo se riesco a saltarne uno Invece no Recuperate la palla dai Recuperatela Recuperatela Attenzione Ero avanti Ero avanti Era fuori gioco Attenzione Attenzione Ma perché? Non c'era bisogno Bellissimo questa Bellissimo Attenzione perché posso saltarne tutti Semi impegno Però sono sulla fascia Questo non va bene Mi devo accentrare Ci posso provare Da qui ancora Deviata Non va bene questo cross Non va bene Questo cross Questo tiro Sì Ancora Incredibile Ci riprovo Ancora deviata Ancora deviata Incredibile Non è possibile Non è possibile Dai Non devo fare gol Non devo fare gol Questa partita è no per me Ci provo di nuovo Ancora Ancora Incredibile Incredibile Non è possibile No 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 Ragazzi c'è qualcosa che non va C'è qualcosa che non va Ci riprovo Ancora Mamma mia Ragazzi mamma mia Mi ha tolto proprio Dallo schifo Mi ha tolto proprio Abbiamo confermato il 2-0 Madonna raga Madonna Non è possibile Una cosa così Amichevole Internazionale Entriamo all'ottantesimo Non so se abbia senso Questa cosa Però vabbè Ci provo di testa Ma è impossibile Arrivarci da lì Attenzione Attenzione perché posso Già No Ancora no 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 Non è possibile No 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 Dai 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 Stacca stacca Grazie a tutti